Probabilmente quando Ogbonna parlava qualche giorno fa di mancanza di meritocrazia nelle convocazioni della nazionale, tutti quanti abbiamo risposto con un «Ma chi ti sei in culo?» ha detto proprio con parole povere. «Ma chi ti credi di essere? Perché credevi di essere convocato? Sei scarso? Sei una pippa?» Poi magari nessuno, o comunque pochi, avranno notato che Ogbonna ha fatto una ottima stagione con il West Ham arrivando sesto e che quindi ci potesse quantomeno stare che ci sia rimasto male per la mancata convocazione e per la mancata considerazione. Ma tralasciando questo episodio, adesso, quando ormai le convocazioni sono diventate ufficiali, si è scatenato il putiferio. Tutti contro Mancini. «Ma perché hai convocato questo invece di quell'altro? Cos'è questo schifo? Cos'è questa vergogna? Ti sei voluto suicidare?» Calmi ragazzi. Allora, premettiamo prima di tutto che sebbene alcune scelte siano state personalmente dubbie e ovviamente le analizzerò in questo video, non dobbiamo dimenticarci che parliamo della nostra nazionale. Quindi, indipendentemente da queste cose, dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a supportare i giocatori che rappresenteranno l'Italia. Quindi, quando si giocherà l'Europeo, non voglio sentire rotture di coglioni verso Mancini, verso i giocatori che non dovevano esserci perché dovevano essere convocati altri. Dobbiamo supportare chiunque vesta la maglia azzurra dal primo all'ultimo minuto di ogni singola partita giocata. È una premessa che volevo fare perché sto vedendo troppe polemiche rispetto all'effettivo episodio. Anche perché, per quanto comunque ci sono giocatori che dovevano essere convocati, non è che abbiamo lasciato a casa Messi e Ronaldo, per intenderci, o del Pire Totti, rimanendo in ambito nazionale. Capisco che alcune scelte abbiano destato qualche, non preoccupazione, ma comunque qualche sospetto, però dobbiamo pensare alla cosa più importante, e cioè supportare i colori azzurri. E non dimenticarci comunque che Mancini finora ha fatto un ottimo lavoro come allenatore della nazionale, indipendentemente dalle scelte finali che ha preso. Per fare, diciamo, questa analisi, lo avrete letto anche dal titolo, parlerò soprattutto del caso Mancini, che io ero convinto sarebbe andato all'Europeo e invece è rimasto a casa. Forse due Mancini insieme non ci possono stare. Ho deciso di leggere tutti quanti i nomi che sono stati convocati, dirvi la mia riguardo su ogni giocatore, e poi farvi, diciamo, l'elenco degli esclusi d'eccezione, diciamo, di quelli che avrei messo. Partiamo dai portieri. Donna Rumma, Meret e Sirigu. Allora, su Donna Rumma e Meret c'è poco di cui lamentarsi, perché comunque Donna Rumma indubbiamente è il nostro portiere titolare. Meret è anch'esso un buon portiere. Forse su Sirigu qualche dubbio ce l'ho. Nel senso, guardando un pochino come è andata la stagione, è vero che la sua squadra ha rischiato di retrocedere, anche il Torino ha rischiato, quindi non c'è poco da dire, credo che Cragno forse lo avrebbe meritato un po' di più. Almeno, ripeto, questa è la mia opinione personale, non mi voglio ergere sopra nessun altro. Credo che Cragno, come premio comunque per essere un portiere di livello da diversi anni, poteva meritarsi questa convocazione. Sirigu invece lo vedo un po' in fase calante. Magari Mancini ha voluto dare questo premio, visto che sta arrivando alla fine della carriera. Probabilmente è questo il motivo, però guardando un po' di meritocrazia, secondo me Cragno poteva tranquillamente starci. Passando al reparto difensivo, Acerbi ci sta. Acerbi è indubbiamente il difensore migliore della Lazio, uno dei migliori in Italia, quindi è giusta la convocazione. Così come quella di Bastoni, fresco vincitore del campionato italiano, protagonista comunque nella difesa dell'Inter. Non è che parliamo di un giocatore gregario che ha semplicemente fatto parte della Rosa. È stato un punto fondamentale, nonostante la giovane età. E quindi ci sta tranquillamente. Passiamo adesso ai due nomi un po' polemici. Bonucci e Chiellini. Indubbiamente Bonucci e Chiellini sono stati una colonna portante della Juve prima, e anche della nazionale. Su questo c'è poco da dire. Guardando però com'è andata questa stagione, averli convocati entrambi, a riscapito comunque di un Mancini, finita la difesa ne parleremo, non lo so, mi è sembrato un pochino strano. È vero che comunque portano esperienza, cioè conoscono il gruppo, quindi uno dei due comunque l'avrei chiamato, sono sincero. Tutti e due forse è un po' troppo, più che altro considerando chi è tenuto fuori. Magari si poteva scegliere un Chiellini, oppure se non hai fiducia dal punto di vista fisico Bonucci che è comunque un leader della difesa, possiamo dire. Tutti e due forse è un po' troppo, ecco. Lo ripeto, non parliamo di una scelta folle, però discutibile sì, possiamo dire questo. Di Lorenzo e Emerson. Allora, Emerson ha vinto la Champions con il Chelsea e seppur non da protagonista, è da anni che è su ottimi livelli, lo abbiamo visto noi alla Roma, poi con il Chelsea è cresciuto ancora di più, quindi va benissimo come scelta. Anche Di Lorenzo, seppur un po' di scontinuo, ma quest'anno possiamo dire che ha fatto bene con il Napoli. Non cose eccezionali, ma comunque bene. Sulla fascia destra non abbiamo questa grande disponibilità rispetto magari agli anni passati, quindi non è uno scandalo, anzi ci può stare tranquillamente. Florenzi e Spinazzola. Florenzi e Spinazzola. La Spinazzola, assolutamente. Cioè io, se non avessero convocato neanche Spinazzola, mi sarei incazzato, per quanto egoisticamente per noi romanisti magari è meglio avere i giocatori fin da subito pronti per la preparazione con la Roma. Ma ha fatto una stagione incredibile, Spinazzola, uno dei migliori della Roma e sebbene abbiamo fatto complessivamente una stagione mediocre, uno dei pochi che si salvano è proprio lui. Quindi la convocazione è assolutamente meritata. Florenzi ha fatto anche lui bene, diciamo, col Paris Saint-Germain, non così tanto bene da meritare un riscatto di circa 9 milioni, anche se credo che qua sia più una questione tecnica perché già si sta lavorando al suo sostituto che dovrebbe essere Rakimi. in quel caso capisco che non abbiano voluto tenere Florenzi e fin qui ci sta. Toloi, Toloi, allora, questa non l'ho capita, cioè è una delle cose che non ho capito. Toloi da poco convocato con la nazionale in quanto diventato nazionale da poco, ha giocato due o tre partite e subito convocato. Ecco, io questa non l'ho non l'ho ben capita, sono sincero, cioè è vero che anche lui ha fatto una discreta stagione, però rimanendo sempre sull'ambito Mancini aver preferito lui al Mancio è stato un po' dubbia come scelta e poi arriviamo appunto a Mancini. Io credo che abbia fatto la stagione migliore da quando è un giocatore professionista, molto più magari di uno stesso Toloi o anche di uno tra Bonucci e Chiellini. Ok che magari si può ragionare in ambito difesa 3, difesa 4, ma Mancini anche con la difesa 4 è un buon difensore, seppur un po' più discontinuo rispetto alla difesa 3. Per me l'avrebbe meritata, ma lo ripeto non perché sono della Roma, chiunque abbia visto un po' di partite di Mancini sa che ha fatto una grandissima stagione e mi auguro che comunque non prenda questa esclusione dal punto di vista emotivo, cioè che ci rimanga così tanto male. Spero al contrario che la usi come motivazione per fare ancora meglio con la Roma o magari dedicare tutto l'aspetto mentale ai colori giallorossi. Me lo auguro in questo modo, ovviamente lo ripeto egoisticamente possiamo dire che è un bene avere subito Mancini pronto per la preparazione estiva, però un po' mi dispiace perché sicuramente la voleva, sicuramente ha fatto di tutto per provarci e se la sarebbe meritata. Chiudiamo qua la questione e non andiamo oltre. Passiamo al centrocampo, anche qui al centrocampo ci sono un po' di scelte particolari. Barella, poco da dire, meritatissima qualificazione per lui, convocazione scusate. Cristante, allora, Cristante, molti hanno avuto dei dubbi su di lui e posso capirmi, ci mancherebbe altro, comunque guardando le esclusioni di Castrovilli, ma principalmente Pessina possiamo dire, ci sta magari pensare che potevano meritarla loro invece che lui. Credo però che per lui sia anche una questione tattica, nel senso Cristante si è allenato praticamente quest'anno giocando anche come difensore centrale oltre che centrocampista. È un giocatore a tutto campo, puoi metterlo difensore centrale, mezzala o anche trequartista all'occorrenza. Quindi, credo sia più una questione tattica che tecnica. Poiché tecnicamente sia anche un discreto giocatore, quello è vero, però capisco appunto che magari avrebbe preferito giocatori come i già citati Pessina e Castrovilli. Passiamo oltre. Giorginio, Locatelli, Pellegrini, Sensi e Verratti. Giorginio, ok, pilastro del centrocampo, comunque giocatore importante per il centrocampo del Chelsea, fresco vincitore della Champions, va benissimo. Locatelli, idem, ottima stagione con il Sassuolo, cresciuto tantissimo in questa realtà che secondo me è fatta apposta per le sue caratteristiche tecniche e mentali. Pellegrini, ci sta, ci sta, discontinuo, ok, ma ha mantenuto una media molto molto importante sia a livello di gol che di assist, è un giocatore che può fare la differenza se ovviamente è in forma e non sempre lo è purtroppo. Sensi e Verratti, allora Verratti, ok, ci sta. Sensi, no, proprio Sensi, no, ok, è un ottimo giocatore, ma fisicamente non c'è, fisicamente non è una certezza. quest'anno con l'Inter non ha giocato mai. Tu devi giudicare anche l'ultima annata che i giocatori hanno fatto con la propria squadra, non la loro esperienza, la loro carriera o quello che hanno fatto negli anni precedenti. Nell'ultimo anno un giocatore perché si impegna? Per dimostrare di essere ad alti livelli. Se un giocatore come Sensi, lo ripeto, buonissimo quanto vi pare, non gioca mai, non ha mai dimostrato le proprie qualità sul campo, come puoi dire l'ho convocato perché lo ha dimostrato sul campo. Come? Come? È una cosa che non capisco. Ecco, in difesa Toloi è la scelta più inespiegabile. Importa Sirigu, a centrocampo Sensi, ad attacco veramente, raggiungiamo cose, livelli astronomici. Ci sono due nomi che io avrei convocato a occhi chiusi e due, anzi, facciamo uno che non è comprensibile, diciamo. Belotti e Berardi vanno bene. Belotti ha mantenuto una discreta media, non è l'attaccante titolare, ci sta. Berardi idem, ottima stagione con il Sassuolo, buona media gol, belle prestazioni, va benissimo. Bernardeschi, Bernardeschi, ditemi voi, Bernardeschi, cosa ha fatto di positivo per meritarsi la nazionale, la convocazione degli europei, un gol al San Marino, non lo so, alla Juve lo odiano, non lo possono vedere, giocatore insopportabile, non azzecca niente, gioca 20 minuti a partita e sbaglia pure 25 minuti a partita. Cosa ha fatto lui per meritare la convocazione? Non lo so, scrivetemelo nei commenti, questa non l'ho capita. Le altre, chiesa immobile in signe, qua penso che nessuno possa dire A, quindi passiamo direttamente oltre. Raspadori, allora Raspadori ha indubbiamente fatto bene con il Sassuolo, giocatore promettente, giocatore in rampa di lancio, non è uno scandalo aver scelto lui, magari rispetto a Bernardeschi, però, guardando un pochino le due esclusioni eccellenti, l'avrete già capite, Politano al posto di Bernardeschi e Ken al posto di Raspadori, un po' di dubbi ci sono, ecco, perché riguardo Politano non capisco perché non sia stato scelto lui al posto di Bernardeschi, la posizione è la stessa, Politano è stato uno dei migliori del Napoli, ottime prestazioni, gol, assist, belle giocate, che doveva fare di più Politano per essere convocato? Solo perché si chiama Politano o magari gioca nel Napoli? Io lo ripeto, non penso che sia una questione di squadra in cui uno gioca, però, cosa ha fatto di più Bernardeschi per meritare la convocazione al posto di un Politano? Raspadori non è uno scandalo, ma Ken al posto suo non sarebbe servito di più? Professionalmente ok è dubbio, però qualitativamente è un buonissimo giocatore, averlo lasciato a casa, lo ripeto, non è come per la Francia aver lasciato Benzema per intenderci, però è una scelta un po' dubbia, quindi capisco che queste convocazioni siano state un po' contestate, poi lo ripeto, non bisogna dare l'importanza, un'importanza eccessiva a queste cose, perché la cosa più importante è supportare la nazionale, però queste convocazioni mi hanno lasciato un po' sorpreso. Per quanto riguarda la Roma ci saranno tre giocatori, Cristante, Pellegrini e Spinazzola e Florenzi se vogliamo perché comunque tornerà da noi, quindi ecco fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di queste scelte, quali giocatori avreste chiamato voi al posto di altri, ecco non ho altro da dirvi, scrivetemelo nei commenti, lasciate un mi piace e se volete scrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ci vediamo più tardi se riesco e me lo auguro di cuore per il video dedicato ai giocatori che terrei e sbolognerei della Roma attuale, video che mi avete richiesto in tanti quindi spero di riuscire a portarvelo in tempo, un saluto, sempre e comunque Forza Roma, riguardo ovviamente il video Forza Nazionale, Forza Italia e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie grazie a tutti